Due in seconda sono in dieci, dopo la bella vittoria nell'ultima, Brian Gar con Vincenzo D'Alessandro Junior, insieme a Boom Gall, anche lui alla grande nell'ultima, e anche questa Bugea Pax con Roberto Vecchione, i più gettonati al totalizzatore. Questo Bugea Pax è un maschio da Sebastian K, ok, mezzo meccanico in movimento. Ha retrato il numero 8 di Billy Dorial, galoppa il 4 di Bello Anna, via la macchina. Boom boom boom, Gal, facile al comando, l'errore di Belmarino nei confronti di Barbacarlo, che parcheggia prontamente. Cavali che affrontano la piegata, poi Bull Mail, il lancio se ne va in 13.3 e l'allievo di Gallucci, in chiaro vantaggio, è partito con cautela, la Brian Gar rimane nasino al vento. Si completa la piegata e anche il quarto iniziale, chiaro vantaggio di Boom Boom, 29.3 sul mio e davanti alle tribune il figlio di Luke The Star comanda, mentre si migliora la gara di Vincenzo D'Alessandro Junior. Siamo al completamento dei 600 iniziali, 43.9 da 1.13.2 e Brian Gar va a diretto contatto con Bungal. Cavalli sulla piegata, al completamento del mezzo miglio iniziale, che se ne va in 59.5. Fa un po' di selezione, Boom Boom, i cavalli che affrontano il penultimo rettilineo, mentre Brian Gar forse vorrebbe parcheggiare in terza posizione. Chilometro in 14.3-14.8 di frazione. Viene via Bugea Pax, che tenta la risalita, Boom Boom, su Barbacarlo, Brian Gar e poi il targato Pax. Curva finale, 15.4, fanno 1.29.7 i tre quarti di miglio, fa una mezza ruota a Barbacarlo, ma intanto si elimina Brian Gar. Boom Boom in vantaggio, retta d'arrivo, il targato Galla allunga, mantiene il comando, poi un ottimo Barbacarlo. Boom Boom al comando, viene via Bugea Pax, il palo si avvicina, non c'è più tempo per il ragioniere. Boom Boom Boom, fa Boom Boom, mentre secondo è il numero sette di Barbacarlo, è fatto per il terzo. 2-2-3, uno 16.4, cost to cost, raffinato con veramente grande maestria dall'ottimo Romeo Gallucci, totalizzatore che borbotta 2-67 in chiusura, va al comando, fa selezione e addirittura se ne va, se ne va, se ne va. Boom Boom Gal ha fatto Boom Boom in questa seconda del convegno. L'idea lo studio. L'idea lo studio. Beg uppitrabilazione